Allora Allora adesso facciamo qualche esercizio Stamattina gli esercizi non ne facciamo tanti Facciamo quelli che ci servono per andare avanti Domani che è pomeriggio Ci spizzareremo molto di più Però qualcuno lo dobbiamo fare Che poi ragionare sempre in astratto con le lettere funziona fino a un certo punto Allora mettiamo per esempio Z uguale a 3 più 2i W uguale a 1 meno i Andiamo a fare Vediamo un po' se avete capito Z più W quanto fa? Quanto fa? 4 più i 3 più 1 fa 4 E poi meno i Fa più i E W più z Sempre 4 più i Tu fai invece di fare z Fai W più z Fai 1 più 3 che fa sempre 4 Meno i più 2 Campo significa Campo significa Che la somma e il prodotto Sono commutativi Appattiene a quella Diciamo quella lista di proprietà E sono tra le proprietà Che erano facili da verificare Andiamo a fare il prodotto Z Per W Quanto fa? Fa 3 Più 2 Più 2i Meno 3i Cioè 5 Meno i Perché 3 più 2 3 per 1 è 3 2i per meno i Fa più 2 Poi qua viene 2i per 1 fa 2i Meno i per 3 fa meno 3i Andando a fare Andando a semplificare 3 più 2 fa 5 2i meno 3i Fa meno i E' chiaro? Andiamo a fare Z per W Coniugato Allora dobbiamo fare Stavolta 3 più 2i Per 1 più i Stavolta mi viene 3i Scusate 3 meno 2 Più 3i Più 2i Quindi stavolta viene 1 più 5 Andiamo a fare Z per coniugato Per v2 Allora qua mi viene 3 meno 2i Per 1 meno i Stavolta mi viene 3 meno 2 Perché meno per meno fa più Ma i per i fa meno i Qua viene Qua viene meno Scusate W Doppio Era Z per coniugato Ok Meno 2i Meno 3i 3 meno 2 Meno 2i Quindi andando a fare la sopra Viene 1 meno 5 Quindi andando a fare la sopra viene 1 meno 5 Notiamo che questo prodotto Viene esattamente il comicato 2 Qua ci viene un dubbio Però per chiarire meglio la situazione Andiamo a fare il prodotto anche Il comicato di z Per il comicato 1 Allora questo è 3 meno 2i Per 1 più i Quindi quanto fa 3 più 2 Più 3i Meno 2i Quindi viene 5 più i E osserviamo che anche questo è collegato di questo E se vado invece a fare La somma dei coniugati Se io faccio qui Faccio z coniugato Più Doppio coniugato Questo è 3 meno 2i Più 1 più i Quindi viene 4 meno i Che è il coniugato di questo Allora sarà un caso Oppure no La risposta è no Allora andiamo a vedere Prendiamo Mettiamoci le lettere Vedete la superiorità delle lettere W stavolta la voglio chiamare C più i Chi è z coniugato? A meno i Chi è w coniugato? C meno i Adesso andiamo a fare Z più w Quanto fa? Fa A più c Ci metto le parentesi anche se non sono necessarie Più i per b più d Ok? Chi è? Z coniugato più w coniugato Ehi Qua il segno non è cambiato Quindi è sempre a più c Invece qua i segni sono cambiati Quindi qua è meno i per b Quindi scopro che il coniugato della somma Non è altro Che la somma Dei coniugati Cioè Il coniugato della somma È uguale Alla somma Quindi si dice che L'operazione di coniugio Rispetta la somma Cioè il coniugato della somma È la somma dei coniugati Andiamo a fare il prodotto Il prodotto Z per w è AC meno BD Se vi ricordate Più i volte AD più BG Quando vado a fare il prodotto I coniugati Z coniugato per w coniugato Cosa viene? Viene AC Quando vado a moltiplicare questi Viene meno per meno che fa più I per i che fa meno Quindi un'altra volta meno Quindi Meno i volte AD Più BG Viene Meno i AD Meno i BG E viene esattamente Il coniugato del prodotto Quindi anche il prodotto Rispetta il coniugio L'operazione che ci dà il coniugato Si chiama coniugio Quindi Si usa dire Si suol dire Che il coniugato della somma È la somma dei coniugati Il coniugato del prodotto È il prodotto dei coniugati Va bene? Fino a qui Ok Perché il coniugato di questo È questo Perché Se io vado a fare Il coniugato di Z per w Z per w coniugato Cioè il coniugato di questo qua Come si fa? Basta applicare ripetutamente Le proprietà che abbiamo trovato Perché? Il coniugato del prodotto È il prodotto dei coniugati Quindi è Z coniugato Per w Coniugato due volte Ma quando un numero Viene coniugato due volte Che significa? Vediamo se c'è ancora Il disegno Coniugare significa Cambiare segno La parte immaginaria Coniugare un'altra volta Torna il numero di primo Quindi questo non è altro Che Z coniugato per w E infatti Questo qui E questi due numeri qua Anche nell'esempio Perché hanno questi Che erano coniugati Ok? Queste Proprietà sono Importanti Adesso andiamo a Vederne un'altra Lasciamo i numeri Indicati lì Allora andiamo a vedere Chi è il modulo di Z? Sempre in questi esempi qua In questo esempio qua Chi è il modulo di Z? Quanto fa? Fa la radice di 13 Perché 13? È la radice di 3 al quadrato Che fa 9 Più 2 al quadrato Che fa 4 Fate attenzione Perché Gli studenti Molti studenti Fanno l'errore Che qua ci mettono 9-4 Fanno il quadrato La parte reale E il quadrato Della parte immaginale No Si fa il quadrato Del coefficiente Della parte immaginale Cioè Sotto Quando andate a calcolare Il modulo Sotto radice Ci vanno La somma Di due numeri positivi Non ci può stare Un numero negativo Ok E quanto fa Il modulo di W Ehi La radice di 2 1 al quadrato Più 1 al quadrato Fa 2 Andiamo adesso A vedere Quanto fa Il modulo Di questi numeri qua Quando fa il modulo Di 0 per W Allora Radice di 26 5 al quadrato Più meno 1 al quadrato Che fa 1 25 più 1 fa 26 E gli altri Qui Ha tutti quanti Modulo radice di 26 Qua viene Radice di 5 al quadrato Più meno 1 al quadrato Poi viene Radice di 1 al quadrato Più 5 al quadrato Qua radice di 1 al quadrato Più meno 5 al quadrato E qua radice di 5 al quadrato Più 1 Ma sempre le disegno Questi 4 numeri Se ne andate a disegnare Nel piano Allora Andiamo Facciamo Un disegnino Allora Uno è 5 più i L'altro è 5 meno i Poi c'è Poi c'è 1 più 5i E 1 meno 5i Ma se andate a vedere Questi numeri Stanno tutti Alla stessa distanza Questa è Questo è 1 meno 5i Vabbè ho scelto Unità di misura abbastanza piccola Unità di misura è Più o meno questa Naturalmente il disegno Non è perfetto Ma insomma Avete capito Perché questi numeri Erano tutti quanti Lo stesso modulo Beh Questo è Figlio di due proprietà Una proprietà È che Quando passo Da z a z Coniugato Che succede Al modulo Modulo di z Coniugato Che è È la radice di A quadro Più Meno b Al quadrato Che è uguale Alla radice Di a quadro Più b quadro Che è uguale Al modulo di z Cioè Quando faccio il coniugio Il modulo Mica cambia Fare il coniugio Significa Geometricamente Fare questa riflessione Quando vado a fare Questa riflessione Questo punto Va a finire qua Ma la distanza Dall'origine No cambia È la stessa Vediamo meglio Comando sopra E questo punto Questo punto Distrano dall'origine La stessa cosa Questo perché Quei triangoli Esosci Ok Questi qua Sono due triangoli Nettangoli Questi due lati Hanno la stessa lunghezza Quell'altro Cateria In comune E Anche la diagonale Ha la stessa lunghezza Anche le due ipotenuse Hanno la stessa lunghezza Quindi Quando passo da un numero Al suo coniugato Il modulo Non cambia Però Osserviamo un po' Che succede? Chi è il modulo Del prodotto Beh adesso Lo stiamo verificando Su un esempio Poi lo dobbiamo dimostrare In genere Generale Ma non è proprio Il prodotto Del modulo Come si fa Il prodotto Del modulo In questo caso Radical 2 Per radical 13 Radice E si fa il prodotto Sotto radice 2 per 13 Ci fa 26 Quindi Effettivamente Il modulo Del prodotto Coincide Con il prodotto Dei moduli Allora E' chiaro che qua Non cambia niente Perché se fosse vera Questa proprietà Anche qua Il modulo del prodotto È uguale al prodotto Del modulo Ma il modulo di 0 Il modulo di W Coniugato Qua fa il modulo di W Quindi Niene un'altra volta Modulo di Z Per il modulo di W Che fa radice di 26 Qua Modulo di Z Coniugato Che fa modulo di W Che fa modulo di W Che fa un'altra volta Radice di 26 Qua Modulo di Z Coniugato Va sempre Radice di 13 Modulo di W Coniugato Va sempre Radice di 2 E Viene sempre Radice di 26 Quindi in realtà È tutto Molto meno misterioso Di quello che serve Tuttavia Questa proprietà qui Noi l'abbiamo verificata Su un esempio Allora Come facciamo A vedere Se è vera in generale Come al solito Invece dei numeri Ci dobbiamo mettere Le lettere Ok Allora Come faccio A verificare Fatemi cancellare Qua le prime due righe Allora Io scrivo Z Z è uguale A più B B Poi scrivo W Poi chiamo C più I D Poi qua scrivo Modulo di Z A quadro Perché voglio scrivere Il quadrato Così non ci metto La radice Più semplice Questo è uguale Per definizione A da quadro Più B quadro Poi voglio scrivere Modulo di W quadro Che è uguale A da quadro A C quadro Più D quadro E poi voglio scrivere Z da W Chi è Z da W? È A per C Meno BD Più I V A D Più B C E chi è Modulo di Z da W? Doppio A quadrato Beh Basta fare Il quadrato Di questo A C Meno BD A quadrato Più A D Più B C A quadrato Questo è uguale Al quadrato Del primo termine Sviluppo la prima parente 4 C quadro Più B quadro D quadro Meno due volte A B C D Poi abbiamo Più A quadro D quadro Più D quadro C quadro Più due volte A B C D Metto sempre i prodotti Noi diamo a presto Allora Come vedete Questi due pezzi I doppi prodotti Se ne vanno E che cosa mi rimane Beh Quello che mi rimane Lo potete scrivere Come A quadro Più B quadro Per C quadro Più D quadro Ovviamente Dovete mettere in evidenza Due volte Ma basta sviluppare A quadro per C quadro C'è A quadro per D quadro C'è O B quadro per C quadro C'è E B quadro per D quadro C'è Quindi effettiamo Il prodotto Di questi due È uguale A quel modulo quadro Ma questo Altro non è Che modulo di Z Quadro Per modulo di V Quadro Quindi io Che cosa ho verificato Ho verificato Che il modulo di Z Per V E elevato al quadrato È uguale a modulo di Z Quadro Per il modulo di V Quadro Adesso Estraete la radice quadrata E ottenete A sinistra e a destra Che il modulo di Z Per V È uguale a modulo Z Per modulo V La radice quadrata Non mi dà nessun problema Perché stiamo parlando I moduli Sono sempre positivi Quindi sto parlando Di quella che si chiama Radice quadrata aritmetica Cioè non è che sto facendo Radice quadrata di 9 Che può venire più o meno 3 Quella positiva La determinazione è positiva Quindi Tolgo il quadrato Tutte le parti È minima Questa è un problema Ma questa l'ho dimostrato È vero Quindi anche questa È chiaro? Sì Bene Come si fa a dire A ricordarsi questa cosa? Si dice Che i moduli Si moltiplicano Allora Il coniugato rispetto A somma e prodotto Cioè il coniugato La somma e la somma Dei coniugato Il coniugato del prodotto E il prodotto dei coniugati Il modulo Del prodotto È il prodotto Dei moduli Ah vabbè Allora pure il modulo Dei moduli Somma sarà la somma Dei moduli No Il coniugato rispetto A somma e prodotto Il modulo Rispetto al prodotto Cioè il modulo del prodotto È il prodotto Dei moduli Ma Per quanto riguarda La somma C'è un fatto Più interessante Allora Ve lo ricordate La disuguaglianza Diciamo La regola del paramilogramma Allora Io cosa posso dire Allora Io so che Se questo è z Se questo è w Per fare z Più w Devo prendere questo Allora Questo è z Questo è w Questo è w Più z O z Più 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 Allora Che cosa so Io in un triangolo So che Ogni lato Per esempio Vedete il triangolo di sotto Questo triangolo Ha per lato Questo lato qua Che è lungo Quanto z E questo lato qua Che è lungo Quanto questo Che è il modulo di w Ma io so Che in un triangolo Ogni lato È minore O uguale Allora La lampezza Minore o uguale Della somma Agli altri due L'uguaglianza C'è solo Quando il triangolo E del genere Quindi Cosa posso dire Posso dire Che il modulo Della somma È minore o uguale Della somma Dei moduli Il modulo Si indica Con la stessa Lo stesso simbolo Del valore assoluto Perché Chi è il modulo Radice di a4 Più b4 Per i numeri reali Chi è la radice di a4 Perché b4 fa 0 Chi è il valore assoluto Quindi il modulo Dei numeri complessi Sui numeri reali Coincide con il valore Assoluto Quindi non c'è bisogno Di un altro simbolo Si può usare Questo simbolo Oh Questa però Che ho dato È una dimostrazione Che si appoggia A un teorema Di natura geometrica Ora Noi Non lo vogliamo Non lo vogliamo Sfruttare soltanto Non vogliamo soltanto Sfruttare questo teorema Ma preferiamo Dimostrare Questa stessa cosa Per via Algebrica Cioè Questa qua Insomma È vera Perché è vero Il fatto che In un triangolo Ogni lato È più corto Della somma Degli altri due Ma la vogliamo Dimostrarla Allora come si fa Adesso Io vado a fare Il modulo Della somma Z e w Sono sempre Gli stessi di prima Quindi Chi è questo A al quadrato Chi è questo modulo Della somma al quadrato Non è altro che A più C A al quadrato Anzi Spiriamolo In forma complessa Questo è Questo è Z più w Per z più w Coniugato Il modulo quadro Ricordate che Z per z Coniugato Fa modulo z Quadro Allora il modulo quadro Di z più w Fa z più w Per z più w Coniugato Questo è Z più w Per Z coniugato Più w Coniugato Adesso andiamo a sviluppare Quindi qua mi chiedo Z per z Coniugato Più w Z coniugato Più z W coniugato Più w W coniugato Uguale Uguale Chi è questo? Zero Per z coniugato Quanto fa? Già lo siete Dimenticati Modulo quadrato Di chi? Insegno Chi è quest'altro? Modulo quadrato Di w Qui c'è W z Coniugato Più Chi era quest'altro? L'abbiamo visto prima Era W Z Coniugato Coniugato Ok? Qualcuno vi dice Ma scusa un attimo Sto numero Non deve essere reale Perché un modulo quadro Deve essere un numero reale Posito Non negative Alla peggio fa zero Se partiamo dal numero complesso Come mai qua ci sono rimasti numeri complessi? Non c'è rimasto nessun numero complesso Perché Questo numero qua E' coniugarli questo Allora cosa succede Se io Prendo un numero E ci sommo il coniugato Z più z coniugato E quanto fa? Fa? 2A Cioè due volte La parte reale di z Quindi qua Non mi viene altro Che il modulo di z Quadro Più il modulo di W Quadro Più due volte Questa quanto fa la parte reale di questo? Due volte La parte reale Di Z Di W Z Coniugato E' inutile Perché scrivo così? Re Significa parte reale Perché Se no Devo fare il prodotto E ci devo scrivere il numero che viene E' più facile scriverlo Tuttavia Qual è Una cosa che io so per certo Che quando io prendo la parte reale di un numero E' più corta Il catetro è più corto dell'ipotenusa Quindi so che la parte reale di un numero E' più corta del suo modulo Quindi cosa posso dire? Allora Innanzitutto Quando sono andato a sostituire Ho visto che qua E' venuto un numero reale E poi so che questo numero reale E' sicuramente Minore o uguale Di modulo di 0 quadro Più modulo W quadro Più due volte il modulo di W per Z coniugato Abbiamo appena detto Che la parte reale di un numero E' più E' minore o uguale Ma se qua veniva negativo Meglio Negativo è più piccolo di un numero Così Ok Ma io posso ancora dire Che questo è minore o uguale Di modulo di Z quadro Più modulo di W quadro Più due volte Allora come si fa il modulo del prodotto? E' il prodotto dei moduli Ma quindi Il modulo di W è modulo W Il modulo di Z coniugato Però scrivo modulo 0 Perché Z coniugato e Z Facciamo lo stesso Modulo 2 Quindi addirittura qua Non è minore o uguale Qua è uguale Però qua c'è minore o uguale E chi è questa quantità Che abbiamo scritto a destra? Questa quantità che abbiamo scritto a destra Non è altro che il modulo di W Più modulo di Z Tutto a quadrato Allora cosa abbiamo dimostrato? Che il quadrato del modulo della somma E' minore del quadrato della somma dei moduli Togliere questo benedetto quadrato Siccome è tutta roba positiva E che cosa trovate? Trovate che il modulo della somma E' minore o uguale della somma dei moduli Allo stesso modo Potete dimostrare Che è maggiore o uguale Della differenza dei moduli Cioè quelle proprietà che valevano Per il valore assoluto Valgono anche per i moduli Provate Potete provare Sia una volta dimostrato questo A rifare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto Per i valori assoluti Sia potete Sia potete Qui Minorare Mettendoci Meno Due volte E quello là è La radice Del quadrato di modulo Z Meno modulo VW Ma se ci metto la radice Il quadrato di modulo Z Meno modulo VW Non è modulo Z Meno modulo VW Ma è il valore assoluto Di modulo Z Meno modulo VW Quindi qua Qua è il modulo Z Meno modulo VW Quadro Se adesso estraete la radice Trovate Questa La radice Sguagliata Ok Se l'ultima non l'avete capita Allora fino a qua Dovete aver capito Se no state Eguagliati seriamente Se l'ultima non l'avete capita Di primo a quinto Ci può pure stare Te la rivedi con calma Poi alla fine Se non la capisci Dopo dieci volte Che l'hai guardata Vieni pure a chiedere al professore Però Dopo dieci o Dopo venti o E qua lo dico Perché se te lo dici Il professore Vuol dire che lo sa il professore Non che lo sa di Ah sì 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 Quando l'ha detto il professore Sembra tutto facile Poi lo vai a fare tutto E' chiaro? Quindi bisogna Perderci tempo Allora andiamo un attimo A riapitolare Perché Questa cosa Ci piace assai Perché ci dice Parecchie proprietà Ci dice che Il coniugio rispetto a somma e prodotti Coniugato alla somma Alla somma di coniugato Coniugato al prodotto E prodotto di coniugato Il modulo Quasi Nel senso che Il modulo del prodotto E prodotto di coniugato Invece per la somma vale Questa qua Come si chiama questa? Disuguaglianza? Triangolare Perché? Perché viene appunto Dal fatto che In un triangolo Ogni lato È minore della somma Di la lunghezza Come lunghezza Chiaro? Bene Ed ovviamente La lunghezza Di ogni lato È maggiore Del lavoro Differenza Ogni lato È minore o uguale La lunghezza di un lato È minore o uguale Della somma Della lunghezza Di altri Maggiore o uguale Della loro differenza Ok Bene Quindi siamo arrivati A queste proprietà Ora A che ci servono Queste proprietà? Beh Ci servono Ci servono Per chi? Adesso La cosa Uno dice Quando il gioco Si fa duro I duri Cominciano a giocare Adesso Ci serve Un po' Di trigonometria Facciamo prima Nel caso Di un esempio E poi Nel caso generale Andiamo a vedere Come Facciamo un paio Di esempi Non lo so Ok Andiamo Prima a rappresentare Allora Uno Due Tre I Due I Tre Più due I Andiamo a rappresentare Questo numero Qua Qua c'è I Qua c'è I Allora Prima cosa Voglio sapere Chi è Allora Che cos'è Questo Questo archetto Che ho disegnato È l'archetto Della circonferenza Unitaria Cioè Questa circonferenza È un quarto Della circonferenza Di centro Origine Ragio Perché Uno Perché Uno Di sta Uno Da zero E I Di sta Uno Da zero Sia Sull'asse Della Scissi Sull'asse Delle Ordinate Quei due Numeri Estano Uno Dall'origine Voglio sapere Chi è Questo numero Qua No Non è Tre Meno Due Tre Meno Due I È coniugato Sta di Su È coniugato Di un numero Che sta nel Primo Quadrante Sta nel Quattro Io dico Che questo Numero È Tre Più Due I Fratto Radice Di Tredici Per Chi Beh Lo vedete Che deve Avere La stessa Direzione Cioè Questo Numero Sta Come Vettore È Allineato Con Questo Vettore Allora Che Vuol Dire Quando Due Numeri Complessi Sono Allineati Devono Essere Proporzionali Tramite Un Numero Reale Cioè C'è Un Numero Reale Che È Moltiplicato Per Questo Mi Deve Dare Questo O Che È Moltiplicato Per Questo Mi Deve Dare Questo Ora Perché Questo Numero Reale Deve Essere Esattamente Per Passare Da Qua A Qua Uno Su Radice Di Tredici Perché Questo Numero Stando Sulla Circonferenza Unitaria Dovrà Avere Modulo Uno Il suo Modulo È Uno Questo Lo chiamiamo W Quando andiamo a fare Il modulo Di W Quanto Fa 9 Più 4 Diviso 13 Che Fa Proprio Uno Anzi Radice Di Ma Radice Di Uno Poi Fa Uno Perché Che Devo Fare 3 Su Radical Tredici Al Quadrato Fa 9 Redicesimi 2 Su Radical Tredici Al Quadrato Fa 4 Redicesimi La Quindi Il modulo Di W Io Fa Quindi Per Passare Allora Z A Più Ib C'ha il suo Modulo Z Che è La Radice Di A Più Ib A Quadro Più Più Z Sul Modulo Z Cioè A Più Ib Fratto La Radice Di Di Quadro Più B Quadro A Modulo Di Z Su Modulo Z Fa La Radice Di A Quadro Più B Quadro Fratto A Quadro Più B Quadro E Fa 1 Ok O se Preferite Il Modulo Del Prodotto È Il Prodotto Di Modulo Di Sopra Fa Modulo Z Il Modulo E Modulo Z Fare Modulo Di Un Numero Reale E Il Numero Reale Stesso Arrivato Del Segno Ma Quello Era Già Positivo Quindi Modulo Z Modulo Sopra Modulo Z Sotto Mi Mi Rapporto Non Scrivo Modulo Modulo Z Perché Può sembrare Un altro Simbolo Che Si Chiamano No Ok Cioè Modulo Fatto Due O O E Come Fatto Una Lotta Bene Naturalmente Tutto ciò Vale A Patto Che Z Non Sia Il Vettore Nullo Cioè Se Z Era Il Numero Zero Sta Cosa Non Funzionava Perché Zero Con Chilo Lineo Con Questo Con Questo Non C'ha Senza Infatti Nel Caso Che Z Fosse Zero Non Posso Dividere Per Modulo Z Però Qualunque Numero Complesso Anche se Z Stava di Qua Ed era Curto Curto In quel Caso Il Modulo Era Minore Di Uno Quindi Dividendolo Per Il Modulo Se Questo È W Questo È Sempre W Su Modulo Di W Insomma Quando Divido Un Numero Complesso Per Il Modulo Il Modulo Viene Uno Il Numero Complesso Cioè Modulo Unitario Fino A Qua Non C'è Nulla Di Complicato È Chiaro? Allora Due Numeri Complessi Che Nel Piano Corrispondono A Vettori Allineati Sono L'uno Il Multiplo Dell'altro Per Ese Vediamo Un po' Se Io Prendo Un Multiplo Di Uno Più I Allora Qua Questo È 1 Più I Su Radical 2 Perché È Quello Di Modulo Unitario Allora Qua Se andiamo a fare La coordinata La prima coordinata Viene A La seconda Coordinata Che ci devo mettere? Allora Questo numero complesso Era 1 Più I Su Radical 2 Diciamo Prolungo Arrivo a Parte reale A La parte immaginale Quanto sarà? Più I Volte A Cioè Lo vedete qua La parte reale 1 Coefinite della parte reale 1 Su Radical 2 Qua La Coefinite della parte Immaginale 1 Su Radical 2 Quando Moltilico Per Un numero Reale Che Succede? Che La parte reale E Rimarranno Uguali Per capirci Se moltimico Questo per 2 Lo raddoppio Come lunghezza Qua quanto verrà? Invece di 3 più 2i? 6 Più 4i Cioè Come vedete La parte Coefinite della parte reale Di 3 e mezzi di questa E' vero anche qua 3 Di 3 e mezzi di 2 6 Di 3 e mezzi di 2 E' vero anche qua Questo è 2 Su radical 13 Questo è 3 Su radical 13 Quindi quando Due numeri complessi Corrispondono a vettori Allineati Tra la Coefficiente della parte reale E la Coefficiente della parte immaginale Il rapporto Si mangia In esempio qua Chiaro? Fino qui? Bene Tuttavia Adesso farò una figura Ben più grande Questa cosa Con l'aiuto Di un po' di geometria Allora La prima cosa Che abbiamo detto Sostanzialmente Significa che Z è uguale a Modulo Z Per Z Su modulo Z Cioè Tutto quel discorso Che abbiamo fatto Geometricamente Significa che Z è il prodotto Del suo modulo Per un numero Di modulo unitario Allora prendiamo Perché il modulo Del secondo fattore È unitario Che significa Che sta Sulla circonferenza Unitaria Adesso la circonferenza Unitaria L'abbiamo fatta Ben più grande Qua c'è uno E qua c'è uno Allora Diciamo che Z era questo Quindi questo qua È Z Su modulo Z Ma Cosa sappiamo Noi Se questo angolo Lo chiamo alfa Per definizione Chi è questo? Quanto è lungo? Allora Ci metto le lettere Questo lo chiamo qui Questo lo chiamo alfa PH Chi è? È il seno di alfa? Allora Chi non ha mai visto Trigonometria E Non l'ha capita Manco nei precursi Lo prende per definizione Questo per definizione È Sena alfa Si prende Positivo Se pi sta di sopra Qua E Negativo Se pi sta di sopra Quindi Proprio come È Esattamente il coefficiente Della parte immaginale Di questo E chi è OH Sempre per definizione È quello che si chiama Coseno Dell'angolo Alfa Quindi questo è Coseno di alfa Più i Seno di alfa Per definizione Dove alfa è L'angolo Formato Dall'asse delle ascisse E dal vettore F Allora Chiariamo Chiariamo bene Come si misurano Gli angoli Questo vale anche Per chi ha fatto Lo scientifico Perché non tutti Gli angoli In matematica Si misurano Irradianti Significa che Qua siamo a 0 Qua non siamo a 90 gradi Perché non sono Chiari Sono radiani Qua siamo a Pi greco mezzo È una Unità che non ha Una Misura Una unità A dimensionale Che non ha Una dimensionale Quindi 90 gradi Corrisponde a Pi greco mezzo 180 gradi Corrisponde a Pi greco È tutto proporzionale Cioè Ovviamente Pi greco quarti Quanto sarà? 45 gradi Pi greco sesti Quanto sarà? 30 gradi Così Il perpia di questo motivo Si capirà più in là Però è un motivo Molto pesante Per cui Questa cosa Non ammette discussione In matematica Gli angoli Scusi Irradianti Puh E basta L'angolo giro 360 gradi Quanto sarà? 2 pi greco C'è chi già lo sa E c'è chi lo imparerà Va bene? Però A me interessa Adesso Questa è stata una Parentesi Incidentale Comunque sia Z Come Si può scrivere Si può scrivere Modulo di Z Per coseno di alfa Più i Seno di a Dove alfa Dove alfa è Ripeto L'angolo misurato I radianti In senso Lati orari Formato dall'asse Lascisse E dal E Però E' un po' Stona Perché stona? Perché noi abbiamo Modulo Z Che è una lettera Latina E qua Abbiamo alfa Che è una lettera greca Allora Per tradizione Si suole indicare Il modulo di Z Con una lettera greca Del tipo Rho Oppure sigma Rho Sigma Tau Allora Allora Ponendo Questa definizione Facendo questa posizione Allora La mia scrittura Diventa Z Uguale A Rho Per coseno di alfa Più i Seno di alfa Ok? Questa si chiama Forma Trigonometrica Di un numero complesso Cioè Un numero complesso Si può scrivere Come A più i b Chi è A? Ovviamente Se Z è uguale Ad A più i b Risulterà Che A E' uguale A Rho Coseno di alfa E B E' uguale A Rho Seno di alfa Quindi Se io conosco Alfa e Rho Posso ricavare A e B Ovviamente Vale anche il contrario Però Ricavare Rho E' facile E' la radice Di A quadro Più i b quadro Infatti è il mollo Ricavare alfa E' Più difficile Perché l'arco tangente Io uso la notazione inglese Quindi arco tangente Invece di scrivere Arco di g Schrivo A tang Arco tangente Di B su A Ma questo è vero Solo nel primo quadrante Cioè Se A è maggiore di 0 E B è maggiore di 0 Se invece siamo Negli altri quadranti La formula cambia Non ci voglio entrare qua Lo faremo Le formule Non vanno Mitizzate Le formule vanno Ricavate Tu devi conoscere Il principio Che ti fa ricavare la formula Perché Conoscendo il principio Che ti fa ricavare la formula Ti ricavi la formula In tutti i casi possibili Quindi se volete La formula Sul secondo Terzo Quarto quadrante Un secondo Ve la scrivo Non me la sto a ricordare Ma la ricavo al momento Cioè Non c'è nessun motivo Per ricordarsela E fare solo Confusioni in testa Allora Questa formula qua Vale nel primo quadrante Le altre formule Per adesso Non me le dico Non mi voglio fare confusione Quello che Voglio sottolineare E quando lo scrivo così Il numero complesso Si dice Forma algebrica Quando lo scrivo In quest'altro modo Si chiama Forma trigonometrica Ok Queste formule Se B Non ha ricavare La formula trigonometrica Da quella algebrica È differente Se c'ho Ro e alfa Posso ricavare A e B Posso passare Alla formula algebrica È banale No Questo fa E questo Per questo In vicerezza È Meno immediato Ma appunto Lo dimostriamo Vagono queste formule Questa vale solo Nel piano quadrante Quella vale 6 Però Poi lo vediamo Quello che mi interessa È che un numero Si possa scrivere Sia in forma Algebrica In forma Di colore Adesso Vediamo se è finita L'ora Siamo di che Siamo di che Siamo 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 Siamo